Questo è uno dei mouse peggiori che si possano utilizzare per giocare a Minecraft E no, non sto scherzando E oggi indovinate un po' cosa andremo a fare Sicuramente avrete letto il titolo Prima di iniziare con il video, se ancora non l'aveste fatto Vi chiedo gentilmente di lasciarmi un bellissimo like Ed iscrivetevi se ancora non l'aveste fatto E sapete una cosa? Andate a lasciare like perché oggi ne avrò davvero bisogno Dovrò mantenere la mia calma e pazienza utilizzando questo mouse Tra l'altro ragazzi è l'ultima volta che lo andrò ad utilizzare e poi basta Perché veramente mi fa arrabbiare Ma detto ciò, iniziamo Ok ragazzi, da come potrete chiaramente vedere in questo momento State vedendo la mia bellissima mano E non solo, mamma mia mi stavo folgorando la vista Abbiamo anche qui il nostro mouse, il migliore E ragazzi il titolo parla chiaro Cerchiamo di vincere delle bad wars Tra l'altro ci troviamo su The Hive Osserva che mi avete consigliato un sacco di su cui giocarci Vediamo un attimino quanti game riuscirò a vincere Non mi darò troppi tentativi perché giustamente la mia pazienza ha dei limiti purtroppo ragazzi Non posso farci più di molto Tra l'altro questa è una nuova posizione della cam Dato che la mia webcam nuova è molto più grande rispetto a quella vecchia Spero che vi piaccia Lì dietro ci sta la postazione di svantaggio Quello è il suo cappellino Vediamo se riesco a puntare Quella è la spara in diamante che l'ho comprato io per regalo Questa è la sua cappellino Questa è la sua sedia e basta Quello è un altro peluche che sta Svantaggio comunque fanatica dei peluche Tralasciando Ciao ragazzi Primissimo game del giorno Vediamo un attimino che cose riusciamo a combinare con questo mouse Che a malapena riesco ad impugnare Nonostante sia piccolino Cioè guardate la mia mano in confronto a questo mouse Cioè è crazy Tanto folgoro le persone che non hanno ancora lasciato like Prendiamo subitissimo i drop Vediamo se ho fatto il god bridge frontale qua Prima partiamo ok No e niente Poi stiamo malissimo Allora piano Ok Mettiamo qua Mettiamo qui Perché è così difficile? Ok è così difficile giocare con questo mouse Più che altro è che non sono abituato La forma del mouse è davvero fastidiosa Cioè è più grande da un lato E più piccolo dall'altro Non so manco come impugnarlo Allora abbiamo comunque nostra spada I nostri blocchi Vediamo se riesco a fare un god bridge frontale verso il centro Tanto devo solo tenere premuto teoricamente Ok easy A meno per qua ragazzi non possiamo dire nulla Non possiamo ancora lamentarci Perfetto Ci sono No 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 Ok Ah è vero Posto E ora scappo Mi prendo il diamantino qui Vedo cosa riesco a farci Primo letto lasciato ragazzi Ce l'abbiamo fatta Mamma mia Non so manco io come E sta arrivando da me Riesco tipo a farmi qualche potenziamento? Eh sì Però Eh sta arrivando tizio Aspetta Oh no 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 Oddio Oh Non fate caso al mio metodo di jitter clicking ragazzi Ma io clicco così Con questo mouse È un po' strano lo so Allora vediamo se riesco a potenziare sto generatore Voilà Ora dieci lingotti di oro Ma posso farci altra roba con il diamante Che non ricordo mai Ogni volta che gioco su questo server Sembra di essere Cioè letteralmente come se fosse la prima volta Ci prendiamo dei blocchi di deepslate Potremmo coprirlo meglio steletta Chissà se riuscirà a vincere comunque dei game Allora Io ragazzi vi dico che ce l'ho subito Con questo mouse ci ho fatto un paio di video Tra cui dei pvp nelle bedwars Dei pvp in crystal pvp E ho detto Sapete una cosa Oggi andiamo sulle bedwars di bedrock edition Tanto per migliorare la nostra situazione No? Così da questo giorno in poi ragazzi Potete dire addio a questo Fantastico mouse Intanto vi folguo un'altra volta Allora Basta con le parole Cerchiamo di lasciare qualcuno Vorrei farmi Un'armatura Però purtroppo Non ho abbastanza risorse Cesta Ok Mamma mia Scusate la mia lentezza Ma quanti sbagli ho comprato Cioè bro Scusate la mia lentezza ragazzi Ma venitemi incontro Cioè non posso farci più di molto Secondo voi Riecerò a vincere questi game Fatemi sapere nei commenti Vorrei sapere la vostra Non è nemmeno così tanto difficile Diciamo che qui Principalmente In confronto a java edition Dove letteralmente Dovevo fare Tricassurdi Per brigiare Perché era una tortura È molto più semplice Ok Quindi non devo preoccuparmi Dal bridging Perché fa tutto lui In automatico Ok ci ho provato a No Stavo per cadere da solo No 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 Armatura in fierro Croccante Abbiamo bisogno anche di tool Sinceramente Ok Andiamo a prenderci i diamanti Qua al centro Ok Abbiamo messo i diamanti Dovrebbe Dovrebbe essere abbastanza Spero Vediamo un attimino Yes Stai arrivando qualcuno Ho visto qualcuno in lontananza Ci prendiamo altri blocchi Per sicurezza E mettiamo il restante Tutto qui dentro E corriamo Mamma mia Quando clicco ragazzi Eeeh Trema tutto Ok Devo combattere Vieni qua Ok Ucciso Perfetto È da prendere il letto Vai 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 Eeeh 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 Ok Eeeh Eeeh È faticosissimo Giocare così Ok vai Let's go Però Oh TPP Sincero non sono male Fermi Aiaiai Aspetta pugni Perché Voglio prendere il letto Preso il letto E dove è il tizio Ah GG Croccante Bene Allora Primo team Rasciato Non so manco io No Non posso raggiungere L'ottava slot Ragazzi Allora Non so se questa cosa La sapevate Però praticamente Io ho deciso di cambiare I keybinds Della mia tastiera Dato che mi trovavo Molto più comodo Cliccare il bottone laterale Del mouse Per raggiungere L'ottava slot Del mio inventario Ho deciso di metterlo Come bottone alternativo Sul mouse E purtroppo Non c'ho il bottone 8 E non ho voglia manco Di cambiare i settings Vedete una cosa Proviamo a vincerla così Senza slot Senza slot 8 No 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 E' la mia base quella Si Bro Ma stava cercando Di colpirmi Con tipo un Pesce knockback Se non sbaglio Allora Forza E' tempo di andare Basta provarci Adesso devo fare Tipo god bridge frontale Verso questa direzione E poi curvo Facciamo così Mi ha visto Si mi ha visto E come si mi ha visto Ok E ora Così Perfetto Facciamo 1 2 3 E ora God bridge frontale Ok E saliamo Let's go Fermi Fermi 360 Vai 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 No 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 Non possiamo Tredarci le hit Ti prego Oh Oddio Prendi Prendi Aiuto No 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 Oddio Come ho fatto a colpirmi Sono morto Sono morto A meno che Non ci credo No 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 Aiuto E' difficilissimo Impugnare sto coso Allora Il suo letto E' stato distrutto Quindi Di ciò non dovremmo preoccuparci Devono solamente ucciderlo Quindi Non penso sia chissà quanto difficile Salve Non si giri Glielo consiglio Non si giri Sta per arrivare la sua Pi' grande paura Carpi Versione gitter Click Ma damn Però questo ragazzo non è male Bro L'ho sottovalutato Poi si è fatto pure in diamante Finita Sono cucinato Cerco di farmi Più cose possibili Tipo armatura E tutte ste cose qua Perché lui si è fatto in diamante Però sinceramente Credo che anche io Possa farmi diamante Qui Bro Un diamante Non ci Per un diamante Dai Sai una cosa Ora va la spacca Come va va Proviamo Con l'arco No dai Ho bisogno di un solo diamante Uno solo Cavoli Ma ha tolto tantissimo Bisogna farmi delle miele d'oro Ok Pusho Lo pusho Lo pusho Come va va Eh no 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 C'ho 31 diamanti Nell'inventaria Fermi Teoricamente posso potenziare Il suo generatore E Oh Ok l'ho fatto Perfetto E ora teoricamente Dovrebbe darmi anche diamanti Giusto? Oh oh E qua No dai No 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 Ti prego Non ci credo No Ho perso Non ci voglio credere Ti prego ti prego Ti prego E nulla E nulla E nulla Non ci credo Ai ai Aiuto 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 Oh mi vuole sparare Fermi Ok Corro 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 Non mi fermo Non mi fermo Non guardo in faccia nessuno Aiuto Aiuto Ok Allora Il mio letto è andato Il suo letto è andato Qua abbiamo 43 croccantissimi diamanti Però corro Non ho blocchi però Però è eliminato da solo GG Ce l'abbiamo fatta Let's go Primo game vinto Mamma mia 4 morti Non è a me però Vabbè Non è un problema Andiamo a farci subitissimo un altro game Seconda partita del giorno Teoricamente dovremmo essere nelle duo Ma io sono Sono da solo Perfetto Yuppi Soddisfazione della vita Allora Dovremmo gestircela molto Ma molto bene Perché sicuramente qua Sarà molto più difficile vincere Però Per me Che sono pro nelle bed Non dovrebbero esserci troppi problemi Vorrei spostare la camera Aspetta che la sposto In mentre Non è che No si è chiuso minecraft Mi arrabbio Allora ragazzi Guardate il lato positivo Il game di prima L'abbiamo Tra le virgolette perso Perché Giustamente Ho cliccato fuori Per un secondo E minecraft Vedrò che lì ci hanno detto No bro Hai finito di giocare Ciao Ha chiuso tutto Però In compenso Guardate Siamo qui con Jakub35 41 53 69 4 Ed è pure verificato Non so che significhi Questa roba Ah Perché sta facendo Prendere le robe a me Oh Dammi un momento io Dammi un attimo tempo Di prendere 5-5 Ovvero 10 pezzi di ferro E sono a posto 5 li utilizzerò per i blocchi E 5 per la spada Ok Esco Vai Boom Boom Vai prendi Ma Oh Gentile Non doveva Allora cerchiamo di non deluderlo Facciamo così Andiamo da chi Uh Da questi che vogliono venire da noi Guardateli Guardateli Li feghiamo adesso Allora facciamo così Boom No Ok vai riesco Morto No Fermi Fermi Ora muore Ok Preso Bella skin Preso Perfetto Non deluderò il mio teammate Che è stato lì paziente ad aspettare Non mi arrenderò Detto preso No 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 Scusi Mister Melon 2140 Dove crede di andare No 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 Uscia E manca un ragazzo qui Forza Jacob Eccolo lì ragazzi È morto Così A posto Tieni ti regalo una spada Jacob Tieni Bravo Leggenda Perfetto Ora dobbiamo farci fuori loro Non dovrebbe essere un problema Tanto questo Manco c'è una spada Perfetto Facciamo fuori il suo letto Boom E ora È tempo di andare Dove È già andato A posto Oh oh Mi è sembrato di vedere un teammate No un enemy Volevo dire Mi saltiamo addosso Lo facciamo Sì Let's go Let's go Oh Un altro letto sta per andare Mmm Vediamo un attimo Aiaiaiaiaia Ok Ok Ma come Ah ok Oh damn No 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 Così Posso prenderle Preso C'è quello dietro E nulla È arrivato Dimitri Oh oh Fermi Ti prego No c'è la barrier No la sapevo Ma che cavolata Dai Non puoi Non puoi dirmi questo Però Ci stava la barrier Oh Qualcun altro mi ha salvato E dai Ma che la sapeva sta cosa Avete visto Stavo cercando di colpirlo In tutti i modi Ma non Fermi un secondo Vediamo Se riesco a combinare qualcosa qui Sono nudo eh Io non Non pretendo Però sarebbe molto interessante Riuscire a fare questo Ce l'ho fatta Per ora siamo a post Però non gioiamo troppo in fretta Spendiamoci i blocchi Sta già arrivando qualcun altro Sparo Bisogna di un'arma Qualcosa per attaccare Ho un'arma Sì ho un'arma Via 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 Anche questa ragazza La devo trollare Facciamo così Ok guarda Torniamo indietro Giù 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 Ti prego Ti prego Ok Giù Oh no Di lato Vabbè dai GG Andiamo a farci un altro game Mamma mia È faticosissimo comunque ragazzi Mi fanno male le mani Ed è questo il secondo game Andiamo a farci l'ultimo E vediamo un attimino Che riusciamo a combinare va Ok ragazzi Ultimo game Siamo qui nelle squads Allora Vediamo un attimino Dove sta il generatore scusami Ah qua Ah sono sparsi Ah bene 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 Quindi uno uno Bene capito capito Ma qui signorino mio Siamo attivi solamente in due Dovrebbero essere squads Quindi praticamente 4v4v4v4 Ah ok Non è più FK Ciao Giga Chad Che bello che sei Hi Non so chi sia La persona che aveva scritto Hi Però rispondiamo dai 9 Forza Ancora un pezzo Yes Vai Prendi tutto bro Stava aspettando anche lui me No non credo So che sei andato davvero FK No F Sveglio ok Ora Andiamo qua Giustamente a prendere i nostri diamonds C'è un po' così Boom Precisi Abbiamo 3 diamanti ragazzi Li darò a voi Vedete di farci qualcosa di utile Possibilmente per la squadra Non per voi Lascio qua terra Sono arrivando i rossi Ah ma la mamma è piccolina Abbiamo qua i rossi davanti Allora se nessuno prende gli avanti Mi li riprendo io Non mi lamento Posto Mi li tengo qui Ora È tempo di lasciare Vediamo che cosa riusciamo a combinare Ma sono gemelle Ma è la prima volta che vedo una roba del genere Vai Chissà si riesco a fare un 4v1 con sto mouse No Esatto Mi sono risposto da solo Carpi ricordati Non sei sul Logitech Eh niente No Oddio Oh no Difendete Che fa questa No 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 Raga 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 Contraattaccate Aiuto 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 Non ci credo Ma come Ma dai E tutti mi drop Dai Allora Vediamo che cosa riesco a fare Spero di riuscire a Carriarla Oh oh No 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 È bello che viene da me sto tizio Ma mi lasci Mi lasceresti stare Grazie Oh oh Stai lasciando di nuovo E qua arrivo a contrattaccare Ok riesco C'è qualcuno dietro Ho visto No Non ci credo Sapete una cosa Vorrei farmi un altro game Dai Non voglio finire questo video Con una sconfitta Ci siamo in 4 No Vabbè lasciamo stare Comunque Stessa mappa di prima Però stavolta ci organizzeremo meglio Ora Mi prendo abbastanza robe Io vorrò potermi portare avanti Ragazzi ci becchiamo direttamente Quando farò un rush Esco 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 Ma che fa Ok Morto No Stanno guardando con Eia Bro 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 Ma che fai da solo Bro Dove credi di essere uscito Fermi Ma questo è mi teammate Bro Spacca 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 Spaccate Qualcuno spacchi Oh oh Ha droppato la spada Siamo uno droppo Eh mi serve Mi serve una mano Mi serve una mano Oh Oddio Via 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 Non ci credo Non ci credo Ti prego Ok No Dai E ora è un casino Stanno arrivando Stanno arrivando Stanno arrivando No 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 Oddio Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego No 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 Chi è quello No no ti prego È difficile controllare il suo mouse Ti prego Non è niente Dai No dai Lo sapete una cosa È davvero difficile Devo ammetterlo Nonostante tutto Ragazzi Viene difficile giocare con sta roba Davvero male che è l'ultimo video che farò con questo mouse Davvero ogni volta che faccio video con questo mouse Perdo sempre Però comunque ho cercato di gestirlo al meglio delle mie capacità Non volevo finire questo video con una sconfitta Però ragazzi è davvero tosta Cioè dovreste provarlo Anzi non ve lo consiglio proprio E nulla ragazzi Spero vivamente che questo video vi sia piaciuto Invito a lasciarmi un bellissimo like e di iscrivervi Se ancora non l'aveste fatto E noi ci vediamo come al solito domanda alle 15.30 Con un nuovissimo e croccantissimo video Ciao belli Ciao